È come avere un incontro personale. Il suo sguardo lo ha reso famoso. Con Dio. Il suo caratteraccio. Riposa in pace. Una leggenda. Missione compiuta. Non era ancora la tua ora. Su CineSony c'è posto per un solo duro. E ancora non ha visto il meglio. Difida delle imitazioni. Serata Samuel L. Jackson. Sabato dalle 21. Regole d'onore. E a seguire Codice 51. CineSony. Canale 55. CineSony. Canale 55.